Grazie a tutti mercoledì 28 settembre avviciniamo a ottobre e spieghi sì ma è una nuvoletta di santozzi se ti guardo in maria non c'è una nuvola non so da dove viene l'acqua queste quattro goccette sì sono fattore gocce stupide ecco in realtà da qui non da dove perché sono passato comunque in ufficio per sapere che il mio ufficio sta qui perché mi è morto diciamo come stava sta caricando le cose ecco ho fatto come quando era il vecchio modello che mi saltava il vecchio capitolo e il modello che mi saltava la registrazione quando mi arrivava un messaggio su whatsapp ecco adesso è saltata la registrazione perché stavo perché praticamente mi ha dato un messaggio d'errore la registrazione lo spostamento di alcuni file perché ho la memoria piena quindi stavo dicendo no mi piaceva il testo da qua perché poi adesso ho fatto un po' più un gesto non so se si è finito perché probabilmente mi sono trovato bene bene e gente che si pianta in mezzo alla strada vorrei vedere se facessero nelle loro città di piantarsi così così all'improvviso con il minimo di tamponare con le macchine provavano a fare una cosa del genere mentre non stavo dicendo quindi ecco adesso in realtà devo accelerare un po' perché sì ormai forse sei non lo prendo però magari prendo il set ammesso che ci sia anche un diretto c'è anche un diretto prenderei diretto volentieri ma onestamente non me lo ricordo se era alle sei o alle o alle assolutamente d'accordo sì sì tutto che siamo in Italia allora io non dico che devi parlare in lingua locale che già quella sarebbe il massimo no? un po' dopo arriverà qualcuno che magari anche ben conosco e dice è grezzo parlare in dialetto a parte che il dialetto lo dice a tua madre quasi una lingua a della tutta ecco primo secondo ti ha visto cosa è successo a non a non avere minimamente a non parlare assolutamente una parola che dico una di dialetto normalmente correntemente che c'è una lingua di legno pazzesca nel senso che la trovo nel senso che ho una difficoltà immensa a parlare per esempio a parlare in inglese ecco non dico che è sicuramente mille per mille però veramente parlando comunque anche un'altra lingua diversa dall'italiano forse la mia lingua forse il mio cervello se sarebbe abituato a dei suoni diversi cosa che invece vabbè lasciamo perdere al di là della della cosa scolastica dell'ambito scolastico ovviamente ecco vabbè cioè il plurilinguismo deve essere un vantaggio ed essere visto non come uno svantaggio ma dopo certo se uno parla solo la lingua e quell'altro non sa fallare allora questo è un altro discorso 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 non parlano una sola parola magari italiano ecco questo questo non va bene questo non è non è integrazione cioè questo vuol dire cioè questi non sono integrati cioè facciamo perdere non volevo parlare di questo in realtà no niente stavo dicendo che insomma sono tornato in ufficio di corsa perché praticamente oggi a fronte di quello che è successo venerdì ci siamo ci siamo ci siamo nel senso io l'ho pensato e così il collega che mi ha dato una mano quello è un altro discorso e che insomma era consapevole anche lui sì però io ho pensato che era il caso di prepararsi un piano B visto che era saltato continuamente l'audio e devo dirci che ci siamo andati abbastanza vicini a doverlo usare comunque non abbiamo comunque abbiamo avuto problemi anche oggi tutte robe che sostanzialmente ci stava là a parte il momento che ha partito un microfono nel senso vanno a schiacciare proprio il momento in cui non c'era connessione e quindi ha preso a zero caspita no e invece doveva abbassarlo praticamente il relatore urlava come un'apida e quindi ecco a parte questo e a parte il momento che ci avevano adesso beh no non non leggera nessuno poi alla fine con il microfono non veniva una a dare un microfono che va cadrai quindi non è stato fatico forse va quello per la serie non è un problema nemmeno dell'impianto è un problema diverso che io l'avevo tenuto spento che dico vabbè tanto se non deve pronunciarlo nessuno è inutile che sta acceso spreca batteria per cazzo e quindi questo l'altro però insomma ecco abbiamo avuto dei momenti di terrore anche oggi che però sono rimasti solo in regia oltre al fatto che non abbiamo in realtà le slide che ci sono state proiettate sono state proiettate tramite zoom perché non passava il collegamento tra un computer e l'altro diciamo che ecco loro se ne sono accorti ovvi motivi però diciamo che il tutto ha funzionato cioè nel senso vedevano ogni tanto che compariva una cosa di condivisione di zoom però c'era sempre è il diametro però al di là di questo ah c'è proprio tutta la presa carino eh al di là di questo insomma ecco è andato però ecco c'eramo la soluzione ne b lì c'è l'impiantino audio d'emergenza che abbiamo dovuto ovviamente dopo rismontare riportare in sede e basta insomma questo niente semplicemente prima che mi parta la corriera infatti posso anche dare uno sguardo adesso se ci sono i diretti se ci sono i diretti io sui paremi guardino il gigito agostino tanto su 5 minuti fino a me parte il 7 qui c'è il bello che è partito come voleva dimostrare e allora se adesso non ci investe il 4 l io non ho capito dove è la differenza tra un 4 normale e il 4 l come si come 6 6 normale 6 l no 6 7 7 i fanno lo stesso per madre lo stesso percorso non so quale cazzo è la differenza misteri adesso vediamo un secondo se c'è perché se non c'è la quindi ormai se la stava 9 se è 19 si 19 restito vado qua sembra che c'è quindi vabbè aspettiamo a sto punto tanto vale ci arrivo qualche minutino prima intanto che fossette arrivo chissà quando perché fa tutto giù le messe mette una vita e niente volevo dire una cosa veloce ai tanti che oddio adesso andremo nel fascismo o nel medioevo o altre puttanate del genere quello che ho detto un miliardo di volte è che abbia vinto quella parte quel partito abbia vinto un altro ha vinto comunque il partito unico l'iper liberismo e cui chi dice il fascismo sei il coglione sei una deficiente non capisci un cazzo non ho già capito niente perché non ha vinto nessun fascismo il posto garantire non ha vinto nessun fascismo ha vinto l'iperliberismo ha vinto una una fazione diciamo di un partito unico dell'iperliberismo ecco punto però quello non è fascismo mi posso garantire che non è fascismo assolutamente no è un'altra cosa non è fascismo potete dire che forse perché quelli che finora ci hanno imposto questi chi erano erano quelli altri non era quel partito la roba che detta onestamente ha servito a qualcosa non lo so forse in alcuni contesti è il corriere ma è meglio se non lo dico se no dovete dire che è rassista quindi vabbè ma stiamo adesso attendo che arrivi sto benedetto e quindi ecco chi dice questa cosa mi fa sostanzialmente ridere perché ecco diciamo che è una bella barzelletta quella che racconta la trasconda c'è pensate il partito del demente il governo invece sarebbe stato tutto rosa e fiori tutte le libertà rispettate eccetera pensate che nazionalizzeranno aziende che erano pubbliche che sono di interesse pubbliche come per esempio l'Eni che prende il capo 7 milioni di altri 7 milioni 7 milioni di ricavi su tutto quello di intubazione in tutto quanto è tutto ente nazionale idrocarburi sa e niente quindi c'è insomma quello dovrebbe essere in mano pubblico non in mano a un privato non andare in questi loghi privati quindi non la nazionalizzera quindi non mi è stato a venire a dire che è fascismo non è che nazionalizzare un entro sarebbe stato indice nazismo o fascismo sebbe chiaro però di certo qualcosa che comunque si allontana di molto dal fascismo da grande è un'altra cosa vabbè signore il primo pari verano noi ci sannogiamo e ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.